Bentornati cari amici dall'Eccelso in questo unissimo videace, bentornati a tutti, ciao ragazzi, come state? Allora, purtroppo come vi avevo già scritto su Instagram, non sono riuscito a vedere la partita, ho avuto una partita di terza categoria, di altissimo livello, superiore sicuramente al Cagliari Quindi, finisco la partita e il mio compagno vi dice, io sapevo prima della partita che stavano 3-0, io ho smesso di vederla sul 2-0, visto diciamo i primi, il primo tempo su per giù, ok? Giù per su, quindi non è che vi possa dire un gran che, e punto, poi mi ha detto, il Cagliari ha vinto 4-3, io lo guardo, mi sta perculando, non ci credevo, guardo, è assurdo, veramente, veramente assurdo Devo dirvi la verità, nel senso, cioè, devo dire la verità su ciò che penso io, è molto, veramente, molto utile avere la possibilità di fare il video non vedendo queste scene Che ovviamente avessi fatto un po' spartita, dopo una live che chissà come sarebbe andata, in visibilio completamente, a puttane anche per altri versi, a livello di qualità di commento tecnico Chiaramente, facendo un video così dopo, riesco un attimo a distaccarmi dalla gioia incredibile del saper che abbiamo preso i primi tre punti Che un giocatore comunque iconico e rappresentativo, come Paoletti ce li ha portati, però ci sono una serie di cose che vanno analizzate Io ora non voglio essere qua lo smorzatore, cioè, però devo esserlo, io non vorrei esserlo, perché lo sapete che sono il primo cacciarone, sono il primo che cerca di fomentare la massa e quant'altro Tra l'altro, io ho messo una storia pre-partita dove dicevo, secondo me oggi si vince Poi, la partita si è messa in un modo che abbiamo vinto solo perché abbiamo avuto culo, non certo perché ho fatto un'analisi azzeccata Però avevo questa sensazione, avevo questa sensazione, lo sapete che da inizio anno non mi sono mai sbilanciato sulle partite, sui risultati possibili del Cagliari Ho detto, secondo me oggi si vince, perché veramente era quasi una last call, anche se c'è ancora tempo per recuperare, ma in un campionato così poco competitivo Tempo per recuperare ci sarà anche a 5-6 giornate dalla fine, in un campionato così misero e di basso livello, ok? Ora, mentre io mi prendo qua il calendario e la classifica per un attimo vedere come si stanno evolvendo le cose Faccio una prima riflessione sulla formazione La formazione di oggi ci dice che Ragneri ha deciso di ripartire di nuovo da questa coppia Goldaniga-Dossena Che poi per uno dei due, non Goldaniga, spoiler, ma Dossena ha fatto cagare Però per andare oltre quei problemi linguistici di cui stavamo tanto parlando Di tutte quelle problematiche che ci sono, che ci sono assolutamente, che esistono E di cui appunto dobbiamo assolutamente essere a conoscenza perché le problematiche linguistiche ad oggi ci sono Quindi l'idea anche di riconfermare per l'ennesima volta Goldaniga Vuol dire che qua su questo canale, ma non solo io, io porto con voi, voglio far salire sul carro tutti voi Tutti quelli che sposavano questa mia visione del problema linguistico vuol dire che ha senso Perché se Ragneri nelle due partite più importanti di questo malloppo di prime dieci partite stagionali Mette dentro Goldaniga e mette dentro a centrocampo, mette dentro, fa comunque entrare Viola Fa entrare gente che si conosceva, allora vuol dire che non diciamo solo cazzate su questo canale Allora vuol dire che tutte le considerazioni fatte sul ripartiamo da il gruppo che si conosce Che è l'unica cosa da cui si può ripartire in questo momento Vuol dire che su quello sicuramente Ragneri ci ha riflettuto, ha detto Sì, effettivamente, non perché l'ha sentito da me, sia chiaro Però si vede che essendo una persona intelligente ha capito e è andato ad operare In tal senso, e lo ripeto, vittorie come questa Tolto l'importanza per uno slancio morale che può dare un rilancio più che slancio Perché slancio, attenzione, siamo penultime, sono venuto proprio qua a fare lo smorzatore Però era un risultato importantissimo, cioè io non ve lo nego Ora la classifica ci dice che siamo penultimi Ci dice che siamo comunque, insomma, a un punto dalla zona salvezza Quindi voglio dire, non è che la cosa fosse compromessa anche prima di questa vittoria miracolosa Il punto qual è ora? A livello, io parlo con i tifosi, la partita non l'ho rivista Ma semplicemente perché il primo tempo bene o male l'avevo visto Il secondo, ho visto tutti i gol Quindi so più o meno come sia evoluta la partita Vi commento i gol E vi dico perché bisogna un attimo fare attenzione Tra l'altro poi la prossima sarà ovviamente alle 15 Quindi di nuovo Cagliari-Genoa Allora, ci sono le partite al venerdì Al sabato, la domenica sera, lunedì Il Cagliari, porca puttana E sempre a pranzo o alle 15 Non è possibile Vabbè, due ore dopo con la Juve Almeno forse andrò allo stadio Non lo so, vedremo Vabbè, comunque, scusate Mi sono incazzato Ok? Quindi, commentiamo un attimo i gol E poi faccio delle considerazioni molto smorzatrici Primo punto Dossena I discorsi fatti nel precampionato E Dossena ti dà altre garanzie rispetto ad Altare Ho detto Ragazzi, Dossena lo stiamo valutando su sei mesi Fatti in Serie B In un momento in cui la squadra stava riemergendo Non era lo slancio di Liverani Cioè lui è subentrato in un momento comunque Dove il liveranismo era finito grazie al cielo Altare, il liveranismo che l'ha distrutto l'anno scorso Se l'è subito Goldaniga, il liveranismo che l'ha distrutto Se l'è subito Ok? Se l'è subito, ok? Se l'è subito, ok? Bene Per quanto riguarda Dossena appunto Oggi fa una partita Mi dispiace ragazzi Ma Tre gol sono Cioè i tre gol Se voi rivedete Il primo è il raccio clamoroso Il secondo si fa uccellare veramente in un modo ridicolo E il terzo gol Anche lì non chiude comunque Non è cattivo Cioè Meglio di Zidiakos e l'altro? Sì, anche perché poi fa la sponda per l'ultimo gol Va bene, va bene Ma io avrei preferito magari vincere la 3 a 2 senza uno di questi errori Perché lui è un difensore Non nasce per farmi le sponde al 96esimo Poi le fa anche Ma io preferirei avere un difensore che mi difende in un certo modo Ok? Questo per quanto riguarda Dossena Quindi tutte le considerazioni fatte solo su sei mesi E ragazzi Purtroppo si stanno rivelando Sbagliate nel senso che Dossena ha fatto prime dieci partite Veramente Per tante cose Poco all'altezza Ok? Poco all'altezza Poi lo so che Dossena vi piace Piace anche a me È un ragazzo a cui voglio bene Però Oggi ha fatto una partita veramente Indecente Se vuoi andate a rivedere gli episodi In queste prime dieci partite Non voglio dire che sia solo colpa sua Però anche Dossena Non ha fatto comunque delle buone prestazioni In queste prime dieci partite Ragazzi Cioè Parliamoci chiaramente Quindi anche qui Oggi sì Si riparte da questa squadra Che bene o male si conosce Che bene o male si conosce Perché l'idea di rimettere Mancosu Come consigliato L'idea di Di mettere appunto Zito assieme Macumbo Prati De Iola Nandez Goldaniga Dossena Se vuoi andate a vedere È una squadra che si conosce Ok È una squadra che si conosce Poi Succede Cosa succede Succede che entra un giocatore Per cui io stravedo E per cui penso Mi prenderò Penso La sua maglia Se qualche sito di magliette Originali Vuole sponsorizzare il video Mi contatti Maglia di Oristagno Oristagno è un giocatore Pazzesco Un giocatore Di cui io Mi sono calcisticamente Innamorato dal giorno zero Ve l'ho detto subito Lo sapete non sono Un amante di giocatori tecnici Ma lui è un giocatore tecnico Con una garra da uruguayano Il gol fatto È splendido È un giocatore Che prego Dio Che l'Inter arrivi A fine anno Fallita Per più motivi Sia per antipatia personale Ma anche Mi dissocio Più che altro perché così Non ci controriscattano Oristagno È un giocatore Clamoroso Clamoroso Io ora capisco che bisogna Tenerselo a gara in corso Perché ti cambia la partita Come comunque è stato Anche oggi Però ragazzi Io tenere fuori Uno come Oristagno Io personalmente Non lo farei Poi Per carità È vero che oggi appunto Abbiamo messo una formazione Particolare Vedremo Vedremo Ma Oristagno Un giocatore Strepitoso Strepitoso Grandissimo Oristagno Ho visto che si è rotto Nandez È entrato Zappa Ottimo Tutto nella norma Tutto regolare Per quanto riguarda Il resto Volevo fare Un scontento Per il gol Del Illo Trapper Macumbu Bene Che è tornato Il gol Dopo tanto tempo Dopo la partita In poi E sei sotto Devi contare Solo lui È un discorso Che ci siamo fatti Diecimila volte Diecimila volte E un giocatore Che in certe situazioni Le conosce Molto meglio Di altri Secondo me Lui anche Se si mette in testa Come penso Stia facendo Che non può essere utile Alla squadra Dal primo minuto Ma può essere utile Negli ultimi Dieci Quindici minuti Allora Pavoletti Diventa un giocatore E lo è già Assolutamente importante Anche in questa stagione Per il Cagliari In caso alternativo Ma per ora Non mi sembra Ci siano evidenze Perché se no Oggi non avrebbe deciso Così la partita In caso Comunque Diverso Appunto Non ci Potrebbero esserci Magari un po' Di bisticciamenti In mezzo Ma per il momento Tutto bene Per il momento Tutto bene Quindi Voglio smorzarvi Adesso perché E vi faccio questo video Perché Perché ragazzi Vai sotto comunque 3 a 0 Con il Frosinone In casa In una delle partite Dove tu devi approcciare Nel modo migliore possibile Perché tu sai Che in casa Il Frosinone È una diretta concorrente Ora il Frosinone Quanti punti ha Giusto per capire Per fare una statistica Cioè una Una pronosticanza Di quando Verrà esonerato Di Francesco Perché di Francesco Un allenatore così Io mi sbilancio enormemente Di Francesco Dopo questa partita Potrebbe non vincerne più Una per due mesi Perché Sconfitte di questo tipo Sono sconfitte Di Franceschiane Sono sconfitte Di Franceschiane E dopo questa sconfitta Di Francesco Creerà un ambiente Invivibile per il Frosinone Quindi vincere oggi Non è Solo una vittoria Per il nostro percorso Che è importantissima Ma è una vittoria Perché tu Metti fino al percorso Del Frosinone E chi meglio Di noi Conosce come Fanno le cose Con le squadre Di Francesco Io sono un grandissimo Detrattore di De Francesco È vero che aveva Una squadra Con grandissime Con grandissime problematiche Quell'anno Ma è lo stesso Che non ha mai messo Un'asse sottile Insieme in campo Ok È lo stesso Che continuava Con questo cazzo Di 4-2-3-1 Quando lo capiva Chiunque Che non ci fosse Rimediani Per farlo È un gran testone È come Liberani Forse peggio Per certi aspetti Ok Quindi io Sono molto contento Oggi di questo Però col Frosinone Non puoi perdere 3-0 Ragazzi Cioè Non puoi fare Quella partita Che hai fatto Contro il Contro il Frosinone Non puoi Cioè Oggi è andata bene Lo ripeto Per l'ennesima volta Al 93 Noi stavamo perdendo In casa col Frosinone In casa col Frosinone Cioè veramente Se io ad oggi Vi devo dire Per la prossima partita Sono super fiducioso Ma come può essere Una persona super fiduciosa Per la prossima partita La fiducia Può derivare dal fatto Che ci sia Un'unità di gruppo Che non c'è stata Perché l'abbiamo L'abbiamo evidenziato Più volte Che si odiassero Tra di loro Comunque non si stessero Particolamente simpatici Questo gruppo Vecchio della Serie B Si vede che ha ritrovato Un'amalgama E questa vittoria Deriva da quello Ma non deriva Da idee di gioco Non deriva da Cioè Quei gol fatti Sono dei gol Bellissimi Per l'ambiente Per tutto Per il fatto che L'ha fatti Paoletti Che è un giocatore Che ci crede sempre E Paoletti È un giocatore A cui bisogna volere Un gran bene Perché è veramente Una bandiera Di questo Cagliari Veramente importante Veramente importante Però Ragazzi Quelli sono gol Che Tranne il colpo di testa Che lì ci vuole Una certa tecnica E comunque pochi Hanno la possibilità Di farlo così bene Ma Totò che l'hanno lasciato da solo Come ha difeso il Frosinone In quegli ultimi minuti Non si sa Di Francesco Ma Quei gol Fatti Su questi cross Ste palle ribattute Sponde Sono gol Che Se vi va bene Andate a vedere una partita In terza categoria Magari entrate anche gratis Senza pagare il biglietto E Ve li vedete Cioè Quello che voglio dire Ma per smorzare Perché non voglio Che ci sia troppo entusiasmo Dopo una vittoria La prima dopo dieci partite In dieci partite Cazzo La prima in dieci partite In casa contro il Frosinone Cioè Veramente Grazie Grazie che abbiamo vinto In casa col Frosinone Dopo dieci partite Perché ero già pronto Alle retoriche Di al Frosinone Fortissimo Ok Quindi Cioè Cerchiamo 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 Un po' di equilibrio Cerchiamo Un po' di equilibrio Adesso ci aspetta Una partita In Coppa Italia Se non vado errato Poi ci aspetta La partita Col Geno E poi ci aspetterà Una partita Molto difficile In trasferta Con la Juve Che però Non è assolutamente Impossibile Ecco Sto finendo il video Magari Che però Non è assolutamente Impossibile Oggi E' veramente Era veramente Importante i tre punti Ma Calmi Perché veramente Non c'è stato Per 70 minuti Nulla di positivo Ok Quindi questo Non voglio affossare Sto smorzando Entusiasmi Stupidi Che fanno male Poi alla squadra Se magari andiamo a perdere Contro il Genova Ok Perché sono cose E realtà Plausibili Quindi col Genova Metteteli Che il Genova È una squadra Che ha raccolto pochissimo Per come sta giocando È una squadra Con una grande identità Un grande gruppo E si può andare a perdere Ok Ecco Casino Se sentite casino Scusate Sarà un gran casino Un gran casino Contro il Genova Quindi mettetelo già in conto Non è che dopo questa vittoria Siamo la squadra più forte Della Serie A Siamo una delle più squarze Lo eravamo prima Lo siamo adesso Ok Un bacione a tutti Scusate ma C'è un casino clamoroso